ora andiamo su multiplayer e entriamo in my little creeper allora innanzitutto presentiamoci mi chiamo arcaila per le amici c'è sere accucciata ciao e entrambi insieme appassionatamente stiamo iniziando in questo momento la nostra serie di minecraft mi aspettavo un let's play però vabbè si capisce non è che stiamo qui a questa magari la taglieremo poi dopo ci guarderemo bene direi che possiamo iniziare con la nostra avventura che figata su questo c'è lì che rompe quella lì stiamo prendendo del fango perché ci serve mince siamo in mezzo al mare ah siamo su un'isola ah fantastico c'è un buco enorme direi tanto di commissare a seccare un albero perché sennò siamo un po' nella merda c'è n'è vera tra giocalla cosa? l'avete un pochino di una calda aspetta che arrivo anch'io dai propongo diridersi verso il deserto di là non ci ho guardato ma mi sembrava mare verde guarda sono tanto d'orzo per un momento ti voglio colpire quello del fango mi spiacciono contro un cactus direi che come iniziare avventure non c'è male eh spune su un'isola del cazzo senza neanche un albero se vuoi usare una mappa migliore ecco la scelta eh oh merda allora la vedo la vedo particolarmente dura ma io non ma oh canna zucchero canna zucchero yeah take all the sugar oh yeah andato vi informo fin da subito che per le prime puntate del let's play il punto di vista di sere non sarà viddato perchè lei nabba è un pc che non riesce a viddare cal c'è una fontana ma cazzo di un desert well caldo sai che è il primo che incontri vita mia io no cal volevo entrare dentro hai capito dovevi uccidere me hai rimato le palle quindi dicevo per il momento vidderò solo io e quindi vedrete sempre i video da solo dal mio punto di vista sere non c'è un cazzo di niente guarda sabbia glicciata adesso le update dovi andarci sotto però mi sa oddio ma cazzo di dove sei sere ali un albero caldo vedo una chioma dov'è ah no come g ma figa mezzanotte cazzo io la vedo io la vedo particolarmente dura eh anche perchè la difficoltà non siamo in pacifico quindi ah cazzo cai una pecora ma me giro uccidila get all the world oh 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 si sta uccidendo sul cactus E' sfigato, chi è? Sera in legno, prima che sia notte, meglio. Hai le torce? Eeeh, no. Che sei inutile. No, mi hai tolto il legno sotto, cazzo. No, io non ho preso niente. Ah, il legno lì. Tu fai scorta di un coso, oppure inizia a scavare un buco che ci facciamo la notte insieme. Sto uccidendo un maiale. Ho preso l'explo. Sera, hai un po' di carne? Oh, cazzo, uno zombie, porca puttana. Tanti zombie, Sera. Oh, cazzo, non ucciderei mai per uccidere. Vabbè, ecco, però. No, l'hai preso a te, la lana, visto? No, non ho preso niente io. Sì, ho preso io, è che era grigio, non mi ero accorto. Un albero! Guarda, della luce! Dove? Lì. Lava. Ah, sì, no, lava. Io vedo lava. Non te la meglio? Vuoi vedere più da vicino? Sì. C'è il ferro! Sì, ma c'è la lava. Eh, andiamo che ho visto un albero qui su e anche forse un buco. Oh, guardiamo qua. Sera, mi fai asciugare l'acqua o che vado a prendere la legna? Eh, suoi da migliore. Suoi? Facciamo una palafitta. Allora, io prendo la legna che intanto preparo un po' di roba di pubblica utilità. Non è stabile questa base, vero? Cosa? Non è stabile, dico. Cioè, nel senso, dopo ci spostiamo. Merda. Eh, beh, sì, penso di stima, c'è un cavolo qui in torno. Eh, no, perché se no non stavo a piantare gli alberi ancora. Ho già 48 legni. Vuoi entrare o stai lì fuori a fare un cavolo? Sto facendo roba per tutti, sai? Adesso ti faccio una pickaxe. Merda, ma quanti mob ci sono? Perché non si attaccano? Aspetta che vado a chiedere a quel creeper là, se mi dava... Se si vuole dare una mano a mob. Un'accendina. Sera, non vuoi dire, ma a me mancano già tre cose, tre bistecche lì, tre cosce. Quindi devo andare da maiala più presto. Eh, eh, già. Ho una mucca anche. Potevo farmi una spada prima, eh? Non metto. No, mucca di merda. Tu non stai laggando, vero? No. Perfetto. Sto facendo una connessione bella, fega, eh? Oddio, can... Questo verrà bippato. Scusa, dimenticavo che stavo biddando. Muori, zombie di merda. Muori, zombie di merda. Amiga, zombie di merda. Un creeper call. Va a morire, va a morire, sto arrivando io. Ecco, eh, ho sentito... Ho sentito un boom. No? Sì. Oh no, ho sentito male. Vediamo. Sera è questa qua, cosa dovrebbe essere? Serebbe il bagno, le pandance. Le fondamentali, le pandance. E la tua camera, vai. Oddio, sarebbe il cazzo? Ma non si può disabilitare la fame, è una cosa che odio? Uno scheletro. Cazzo. Mi faccio una spada. Vuoi una spada anche te o preferisci un piccone intanto? Anche il piccone va bene. È di legno, però al momento non ho altro. Eh, vabbè, fanno il piccone di legno e lo farò diventare magicamente di... Ah, è della pietra, te? Senza piccone, no? Vabbè, puoi minarne anche senza piccone, eh? Spada, piccone. Arrivano zombie. Credo di provare subito la mia spadonna nuova. Pen, 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 pen. Oh, achievement... Oh, merda, Sere, 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 Sere. Cosa? Mi sta seguendo, Sere, mi sta seguendo, aiutami. Chi? È un creeper. Ah, certo, devo morire io per te, va bene? Vabbè, ti... Ti dovi l'acqua, merda. Merda, aiuto! Cazzo! Carl! Sere, ho due cuori di vita. Ma stai lì, stai buono. Non vorrei che volevo morire la prima puntata. No, sarebbe troppo triste. Mi nascondo qua. Ecco che stai per passare davanti il mio piccone. Mi dai due pietre? Dammi quattro pietre. Cinco pietre. Mi sa io. Dammi cinque pietre. Oh, cazzo! Ho capito! Mi dai due pietre. Mi mancano tre. No, quattro me ne mancano, non lo so. Sette, va bene. Ho capito, in questa serie io devo fare i lavori forzati e tu... Io penso che li perai. Ah! Sai che abbiamo quasi finito il legno? Eh, ma ci sposteremo appena fa giorno. Fammi altri piccoli quando puoi.